Ben ritrovati amici di romaggioralossa.it, di nuovo qui in questo appuntamento mattutino, 9.22 dell'8 agosto 2023, aggiornamenti chiaramente di calciomercato e non solo perché abbiamo commentato con Maria Paola Violi, direttore editoriale di romaggioralossa.it ieri pomeriggio nel nostro consueto appuntamento in radio, web radio, nel podcast che potete ascoltare chiaramente fino ancora a circa 5-5.30 di oggi pomeriggio. Abbiamo parlato delle dichiarazioni di Giuseppe Molinio, ha detto, ha fatto capire, intendere che la trattativa per Morata o comunque l'arrivo di Morata è molto difficile, quindi io naturalmente Molinio ci spero ancora, io ci spero un po' di meno dopo le dichiarazioni di Molinio, però se l'Atletico Madrid come si vocifera addirittura lo dovesse togliere dal mercato rinnovandogli il contratto fino al 2027, è chiaro che sarebbe veramente molto molto difficile arrivare a Morata, anzi quasi impossibile, non solo per la Roma ma penso per tutte le squadre italiane, staremo a vedere, staremo a vedere. Passi in avanti per Marcos Leonardo, ieri romaggioralossa.it alle 11.21 ha dato l'esclusiva, poi a ruota tutti gli altri, ma Roma giallorossa appunto ha dato l'anteprima della notizia, ovvero che per quanto riguarda Marcos Leonardo c'era stato un rilancio nella notte, quindi praticamente due notti fa, c'era stato un rilancio a 12 milioni di parte fissa più 6 di bonus, quindi praticamente 18 totali e questi bonus erano comunque una parte almeno facilmente raggiungibili, quindi si è la Roma avvicinata notevolmente alle richieste del Santos. Si discute naturalmente ancora sulle modalità di pagamento, rateizzazione, la Roma vorrebbe pagare la prima rata a dicembre, mentre il Santos vorrebbe che fosse pagata la parte fissa in un'unica soluzione. Le parti continuano a trattare, il giocatore, tra l'altro notizia di poco fa, ieri non si è allenato, ha comunicato al Santos quindi che vuole comunque solamente la Roma e adesso la palla che adesso passa al Santos perché non si può ottenere un giocatore controvoglia, non si può ottenere un giocatore che ti chiede espressamente l'accessione, quindi adesso il Santos deve prendere una decisione definitiva che potrebbe già arrivare comunque mattinata o magari nel primo pomeriggio di oggi, staremo a vedere se dovesse continuare anche oggi il Marcos Leonardo magari ad un allenarsi con il Santos. Quindi è molto molto vicino ma ancora non è del tutto fatta, il Santos è una squadra, è un club con cui è difficile trattare, non lo vorrebbe mettere sul mercato perché c'è anche David Washington che sta partendo in direzione ai Chelsea ma ormai i giochi sono fatti, quindi se il Santos poi sarà costretto ad accettare l'offerta da Roma 12 più 6, allora magari vedendosi in conto sulle modalità di pagamento e sulla ratizzazione, allora è chiaro che Marcos Leonardo potrebbe essere a breve un giocatore della Roma e questo diciamo lo diamo così, non sappiamo dare delle tempistiche ma io credo che in questi due giorni, i prossimi due giorni comprendendo il fuso orario saranno importanti per capire il futuro di Marcos Leonardo e quello della Roma. Contestualmente abbiamo detto di Molata che è molto difficile da prendere, abbiamo detto di Marcos Leonardo, parliamo dell'altra attaccante che noi avevamo già fatto, forse siamo stati primi a fare il nome di Zapata negli ultimi tempi perché Zapata abbiamo raccontato che non c'erano stati contatti con l'Atalanta e con l'entourage c'è il giocatore. Ieri Sky ha parlato appunto di un contatto con l'Atalanta e con gli agenti del giocatore, quindi effettivamente c'è stato solamente ieri un primo contatto, non c'è stato nei giorni scorsi, noi avevamo detto di Sab, praticamente sabato avevamo detto che non c'erano stati contatti, però adesso la Roma ha chiesto Zapata, informazioni su Zapata ed è una possibilità di quell'attaccante come dire low cost ma di esperienza da affiancare eventualmente a Marcos Leonardo. Non solo, l'Atalanta ha proposto Muriel alla Roma, il giocatore piace, sta valutando Pinto, però diciamo in questo momento Zapata secondo me è una priorità, tra i due Zapata ha la priorità, perché Muriel è un po' il discorso che si può fare per Belotti, insomma nell'ultima stagione ha segnato veramente poco, ha avuto tanti problemi fisici, non che Zapata non li abbia avuti, però io penso che comunque insomma tra i due Zapata sicuramente è quello che ti può dare sicuramente più garanzie di tutti. Arnautovic, come sempre detto, la Roma giallorossa.it, e questo ci sono i video, quello testimoniano, gli articoli eccetera, è molto difficile da prendere, il Bologna fa muro, chiede 10 milioni, la Roma ne offre 3, 3 e mezzo, per il Bologna il giocatore è incedibile, se non per un'offerta veramente importante e alta, quindi 10 milioni è chiaro che la Roma non può pensare di investirli per Arnautovic, pensava sicuramente a qualcosa di meno e quindi la Roma vira su questi altri obiettivi, ovvero in primis Zapata, in seconda battuta Muriel e poi chiaramente spera di portare a termine Marcos Nonardo. I Bagnitz intanto è andato alla Lali, ha svolto le visite mediche, quindi tutto ok, 33 milioni l'operazione complessiva per Roger I Bagnitz alla Lali, 28 diciamo di parte fissa, 28 e mezzo più o meno e poi restanti di bonus facilmente raggiungibili, quindi anche questa è un'operazione interessante, la Roma comunque ha una trentina di milioni da spendere sul mercato. Per quanto riguarda chiudiamo con Matic, perché Matic è un problema, ha chiesto la cessione, Matic in questo momento c'è il REN che lo ha contattato personalmente, il REN è già l'accordo con Matic sulla base di un biennale da 4 milioni netti a stagione, come abbiamo scritto anche ieri su RomaGiallalossa.it, è chiaro che in questo momento la Roma non vuole cedere il giocatore perché vorrebbe dire tornare sul mercato e sostituirlo, tra l'altro la Roma sta aspettando anche di chiudere definitivamente l'Enero Sanchez, quindi definirà tutto come abbiamo detto entro breve tempo, ma se si sono concentrati prima su Marcos Leonardo, poi ci sono stati alcuni problemi al Paris Saint Germain per quanto riguarda addirittura delle possibili dimissioni di Luis Enrique, c'è la grana Neymar, c'è la grana Mbappé, insomma lì non se la passano bene, quindi tutto questo ha rallentato il Renato Sanchez da Roma, per chi me lo chiedesse, per chi me lo chiede magari in continuazione anche sui social, ma non l'avevi detto di Renato Sanchez, Renato Sanchez sarà un giocatore della Roma, ragazzi è pazientale perché chiaramente non le faccio, non le ho detto io le tempistiche, ma le ho detto alla Roma, le tempistiche della Roma, ma in questo caso è detta anche la squadra che deve vendere, quindi se il Paris Saint Germain in questo momento ha altri tipi di problemi è chiaro che ritarda in questo momento l'operazione di Renato Sanchez alla Roma, ma non è detto che, assolutamente non ho detto che salta o è saltata, assolutamente no, arriverà il giocatore come ha scritto anche tra l'altro ieri la gazzetta, che è quello che poi dicevo io praticamente da settimane, si sta aspettando solamente l'incastro di alcune cose. Matic è un problema perché Matic, ripeto, ha un accordo con il Ren sulla base di 4 milioni di netti per un biennale, la Roma non vuole cederlo chiaramente, però adesso non entriamo nella sfera privata, ci sono alcuni problemi per quanto riguarda Matic, però la Roma tenta di trattenerlo, se no fa il prezzo per Matic che è 8-10 milioni, quindi molto semplice, 8-10 milioni come abbiamo raccontato ieri per Matic, altrimenti non se ne fa niente, però è chiaro che poi se la Roma dovesse, se il Ren dovesse spingersi a offrire 8-10 milioni per Matic, allora a quel punto, come dire, la Roma dovrebbe tornare sul mercato, accetterebbe l'offerta, accontenterebbe il giocatore che andrebbe in Francia, Ren, e poi la Roma dovrebbe tornare sul mercato, il nome caldo in questo caso è Dominguez, a patto che esca chiaramente Karsdorp, quindi col ricavato di Matic, col ricavato di Karsdorp avrebbe 10-12 milioni da investire per un giocatore in scadenza di contratto come Nicolas Dominguez. Queste sono le ultime notizie, io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo come sempre di condividere il nostro video, di mettere un like a questo video, tanti like a questo video, di far crescere la community di Roma Gelorosa TV, non vi dimenticate romangelorosa.it, vedete sempre attraverso l'app, attraverso il nostro sito, anche su mobile o su pc, tutte le ultime notizie, io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento naturalmente al prossimo video, che potrebbe essere stasera, oppure direttamente domani mattina, come sempre, un grazie e sempre un abbraccio a tutti.